Noi di 7gips.org siamo con Saverio Gaeta, buongiorno Saverio, buongiorno a te Emiliano E grazie per aver accettato l'invito per parlare penso di uno degli argomenti in cui sei più ferrato, che è Maria Sì, penso di sì Perché Maria è bella? Dal punto di vista della conoscenza che ne abbiamo attraverso i veggenti è una di quelle parole, di quegli aggettivi che tutti i veggenti hanno utilizzato Semplicemente per dire che qualunque quadro, statua, icona venisse realizzata con le loro indicazioni Non riusciva mai a rispondere a quello che loro invece vedevano Praticamente tutte le ultime manifestazioni mariane hanno sempre avuto qualche artista, anche più di uno alle volte Che per ispirazione oppure su richiesta precisa dei responsabili dei vari santuari o dei vari luoghi Ha cercato di rendere le fattezze di Maria E tutte, da Bernadette fino ai veggenti di Medjugorje Continuavano sempre a dire Ma sì, insomma, ci si avvicina un po', ma non è assolutamente bella come è lei Quindi se ne parliamo, lo stiamo trattando dal punto di vista materiale, dal punto di vista umano È ovvio che una donna trasfigurata appunto in quella che è la sua essenza più pura e attuale Cioè della donna che appunto, assunta in cielo, ha acquisito una fattezza eterna La bellezza di Maria è qualcosa di soprannaturale Non si tratta soltanto di quella bellezza da copertina di rivista patinata Ma si tratta di quella bellezza interiore da cui traspare la totalità del suo essere Cioè la totalità di una figura, di una donna, di una persona Che anche concretamente, fisicamente, perché lei è assunta in cielo Ed è un dogma, cioè una verità di fede Assunta in cielo, in corpo e anima Come dice sempre la teologia, primizia di tutti noi Perché la speranza che tutti noi abbiamo è che un giorno saremo anche tutti noi In cielo, in paradiso, in corpo e anima Ecco, quella bellezza di un corpo trasfigurato Ma d'altra parte, se vogliamo fare qualche esempio banalissimo Ma molto preciso e concreto Tanti dei santi e delle sante di questi tempi che abbiamo potuto conoscere Avevano una diversità di bellezza Perché, per dire, un canone classico della bellezza Certamente madre Teresa, a mio parere, almeno non lo era Ma se uno la incontrava, la guardava negli occhi Rimaneva estasiato dalla bellezza che promanava dai suoi occhi Quindi non dalla bellezza strettamente fisica Perché aveva l'altezza giusta E, come dire, il naso preciso e gli occhi azzurri cielo Ma perché dalla sua potenza di sguardo Emanava una bellezza tale che si rimaneva estasiati Quindi immaginiamo ancora più una che invece veramente è bella Perché tutti i veggenti e le veggenti lo dicono E quell'amore che traspare dalla sua essenza Si configura appunto come una bellezza ulteriore Proprio perché è il segno, il modo di esprimersi dell'amore di Dio C'è una famosa battuta, uno scambio di parole Che una ragazzina all'epoca, Jelna Vasili Una di quelle che aveva le audizioni interiori E talvolta vedeva anche la Madonna Nella seconda fase delle apparizioni di Meggiugorie Che un giorno, avendo avuto occasione appunto di vederla In questi che non erano vere e proprie apparizioni Ma erano più delle audizioni con un'immagine Con una visione anche di Maria Le disse Madonna, perché sei così bella? E la Vergine rispose a Jelena Sono così bella perché amo Fondamentalmente è questa la risposta Non c'è un qualcosa che si possa dire in più di questo È l'amore divino che si trasfonde anche nella figura della persona Anche nel suo volto E che attraverso quello sguardo Quel volto riesce a esprimersi Importante essere belli perché amiamo appunto come Maria Qui in Europa una delle... noi siamo abituati a Lourdes, Fatima, Meggiugorie A tante madonna, madonna di Civitavecchia In Sud America una ne hanno Che è la Madonna di Guadalupe Ecco ti vorrei chiedere intanto qualche cenno storico Per quello che sai E poi secondo te perché in Sud America ne è bastata una di apparizioni E mentre in Europa la Madonna è apparsa così frequentemente in così tanti posti Come integrazione devo dirti Quella di Guadalupe ovviamente è la più famosa Risale a cinque secoli fa In realtà poi ce ne sono anche altre Per esempio a Parisida Sempre nell'area appunto del Sud America Guadalupe come sappiamo è in Messico A Parisida è nel nord del Brasile Ma poi più recentemente ce ne sono state diverse Finca a Betania In Venezuela San Nicolassi in Argentina Che sono state riconosciute E attualmente ci sono diverse apparizioni Sotto studio in Brasile Dalla più varia credibilità Alcune hanno avuto già qualche riconoscimento Almeno come luogo di culto Come i tapiranga Altre sono sotto studio della diocesi Come per esempio Anguera Quindi diciamo che anche in America In America Latina Ci sono state diverse apparizioni significative Quella di Guadalupe è sostanzialmente Quella che proprio nel tempo immediatamente successivo Alla chiamiamola tra virgolette scoperta dell'America Nel senso che noi occidentali abbiamo scoperto l'America Che però c'era da sempre Quindi non è che sia spuntata come un fungo dal nulla Quando è andato lì Vespucci o Colombo È stato il modo con cui la Vergine ha mostrato il suo amore Per quelle popolazioni Per quei territori che vivevano comunque delle situazioni Molto preesistenti Conosciamo tutte le vicende Dai Mai agli Aztechi A tutti quelli che sono un po' i gruppi dell'epoca Gli Incas e così via Che avevano tutte delle tradizioni Chiamiamole religiose Religioso-culturali Che non erano proprio le più belle Che prevedevano anche omicidi rituali Che prevedevano tante situazioni di venerazione di idoli Attraverso anche delle modalità non particolarmente amabili Un po' cruente come sappiamo Quindi la Vergine quando apparve lì all'Indio Juan Diego Sostanzialmente fu mandata dal cielo Ad annunciare quello che qui in Occidente Già da tempo avevamo vissuto Con questa presenza di Maria bimillenaria Perché sostanzialmente in Europa La Madonna prevedente addirittura apparve in bilocazione All'Apostolo San Giacomo Maggiore Quello di Santiago di Compostela San Giacomo Che era andato appunto nelle zone occidentali del continente Ad evangelizzare Apparve quando ancora era in vita Ed era ancora a Gerusalemme E apparve invece all'Apostolo San Giacomo Per poter incoraggiare questa sua missione Appunto ancora durante i tempi in cui era in vita Quindi noi in Europa, in Occidente Abbiamo una testimonianza di 2000 anni Lì in realtà questa testimonianza appunto risale Ai primordi della scoperta dell'America E attraverso Juan Diego Il quale andò dal Vescovo A mostrare quello che gli era accaduto Cioè questa apparizione di Maria Che come segno gli fece comparire sul mantello Il cosiddetto mantello di Juan Diego La tilma guadalupana Questo era un mantello fatto di sostanze naturali, vegetali Fece apparire il suo volto E poi tutta l'intera immagine Quando Juan Diego dispiegò il suo mantello E quello fu un gesto concreto Un segno visibile di questa presenza Quindi Guadalupe In quanto apparizione mariana In quanto manifestazione mariana È una delle prime apparizioni Dove la Vergine ha lasciato un vero e proprio segno Che tuttora è visibile Gli esperimenti scientifici hanno mostrato Che quel tessuto fatto appunto di foglie In pochi anni sarebbe dovuto scomparire Tuttora sono stati fatti vari esperimenti In cui hanno preso queste stesse foglie Le hanno messe nelle stesse condizioni Di luce, di umidità E dopo pochi anni si sono praticamente squamate Dissolte Quella immagine invece su quel tessuto Rimane lì da cinque secoli Il che non è esattamente una di quelle cose Che la scienza riesce a spiegare Anche se ogni tanto appunto qualcuno Si inventa qualche fesseria Perché dobbiamo chiamarle veramente Fesserie scientifiche Per documentare delle ideologie pure e semplici Come avviene anche per altri miracoli Miracoli come San Gennaro Come la Sindone di Torino Come il volto santo di Manopello E su quello possiamo però ragionare in altri momenti Quindi Guadalupe è un momento storico In cui la Vergine mostra il suo amore Per tutto il mondo Anche per quelli che fino a quel momento Non avevano avuto l'esperienza della fede cristiana Però noi siamo abituati a immaginare La presenza di Maria Soprattutto nell'ambito occidentale Perché in particolare a partire dal 1830 Con Rieu du Bac L'apparizione della medaglia miracolosa La Vergine comincia a interessarsi Dei tempi moderni E a essere anche profetessa Rispetto a questi tempi Questa è un po' la differenza Che ci fa pensare A una specie di distinguo Tra quelle apparizioni precedenti al 1830 A quelle successive Che chiamiamo dei tempi moderni Proprio perché fino a un certo punto Fino alla metà dell'Ottocento La Vergine appare in determinati luoghi A determinati veggenti In determinate situazioni storiche Per dire qualcosa a quel popolo A quel territorio A quella situazione Dal 1830 possiamo riconoscere invece Una presenza di Maria Collegata anche a tutto il mondo Quindi con una profezia Che si dilata Che diventa qualcosa di più orientato A insegnare A coinvolgere tutti Non soltanto i fedeli Ma anche quelli che sono increduli Che sono atei Quelli che in quelle apparizioni di Medjugorje Alla veggente Miriam Ha definito coloro che non hanno ancora Conosciuto l'amore di Dio E il suo accento è su ancora Come auspicio che lo possano conoscere In un prossimo immediato futuro Ecco, in questa dimensione Quindi nelle apparizioni più moderne Si è posta come quella Che viene a invitarci Alla conversione dei cuori Mostrandoci anche di conoscere il futuro Perché Dio glielo permette Come testimonianza Come documentazione Di questo suo collegamento con Dio Trinità E' in questo che possiamo riconoscere Una certa differenziazione Tra quelle apparizioni più antiche Che sono legate molto alla vita dei popoli Come appunto dicevo Guadalupe Ma anche a Paresida E altre apparizioni A quelle dei tempi moderni Dove invece la presenza di Maria È proprio indicazione concreta Dell'amore di Dio Che vuole non convincerci umanamente Ma vuole coinvolgerci Nel suo piano d'amore creativo Ascolta, hai fatto Torniamo in Europa Perché il tempo non è tantissimo a disposizione E quindi devo veramente fare dei flash Torniamo in Europa In Europa appunto Te hai, come hai già accennato Dal 1830 con lui De Bach La Madonna incomincia una nuova Una nuova modalità Se così si può dire Cambia il suo pubblico Da quello che dicevi Mi venivano in mente Un paio di riflessioni Intanto il fatto che la Madonna Appaia principalmente in Europa Mi fa così intuire come Maria consideri l'Europa Ancora al centro del mondo Almeno spirituale O comunque un posto Da cui si può Che ha bisogno di essere Di nuovo rievangelizzato Quindi intanto ti chiederei un commento Su questa cosa qui E secondo Le apparizioni più famose Dei tempi moderni Sono appunto quelle di Međugorje Teti si è occupato anche Nel dossier Međugorje Dell'ultimo studio L'ultima rilevazione Che la Chiesa ha fatto Sulle apparizioni Quelle che sono ancora in corso Intanto ecco Come è stato Studiare il dossier Come loro Come hanno affrontato Questa Questo fenomeno Chiamiamolo così Che è ancora in corso E secondo te Che cosa hanno Qual è stato il miglior pregio E il limite Di questo Di questa relazione Sì la Madonna La Madonna appare in Europa Appunto in particolare Dal 1830 A Rio de Bac E soprattutto Nei primi tempi In Francia Ci sono cinque apparizioni Molto importanti Immediatamente Negli anni Finali Dell'Ottocento Quindi Lourdes Pommene Pellevoisen La Salette E Rio de Bac Non nell'ordine cronologico L'ho detti Ma come significati Specifici Perché La Francia È sempre stata Considerata La figlia primogenita Della Chiesa È quella che poi Oggi Vediamo che In qualche modo Ha abbandonato Questa sua missione Precedente Ma sappiamo Sin dai tempi Di Margherita Maria Lacocque Con tutta la devozione Al Sacro Cuore di Gesù La devozione Dei primi Venerdì del mese Le richieste Al Re Francese Di consacrare La Francia È sempre stata Una nazione Privileggiata Come anche È l'Italia Quindi Diciamo che Il cielo Guarda L'Europa Come La terra Della evangelizzazione Di tutto il mondo Praticamente Diciamo che Noi la consideriamo La Chiesa Soprattutto quella Cattolica La chiamiamo Cattolica Apostolica Romana Se pensiamo Che Cristo Gli Apostoli Hanno vissuto La loro vita Principale In Medio Oriente Teoricamente L'avremmo pure potuta Invece immaginare Come la Chiesa Cattolica Che ne so Gerosolimitana Di Gerusalemme O Nazaretiana O Betlemita Mentre invece Il progetto divino Ha voluto che fosse Romana Ora non è un orgoglio È una responsabilità Quella che L'Europa E non il Medio Oriente O non l'America O non l'Asia Sono state Proprio sollecitate Inquadrate Come quei territori Da cui doveva partire L'evangelizzazione E ne avremmo ancora oggi La responsabilità E il compito Se fossimo coerenti Con la nostra fede Mentre invece ogni tanto Insomma la perdiamo Un po' di vista Questa nostra responsabilità Questo nostro compito di annuncio Di annuncio di qualcosa Che non è una dottrina È qualcosa Invece di collegato Alla gioia della vita All'esperienza Della bellezza E quindi Dovrebbe essere proprio Io la dico spesso In maniera molto banale Come quando incontriamo Degli amici E parliamo della pizzeria O della gelateria Che frequentiamo E uno dice Guarda quella gelateria È molto buona E l'altro dice Sì però io ne conosco Una migliore Cioè noi nelle cose concrete Nelle cose normali Ci diamo dei suggerimenti Perché appunto Dovendo spendere La stessa cifra Per mangiare Da un posto In un posto o nell'altro Per prendere un giolato In un posto o nell'altro Ci diamo il suggerimento Di quale sia poi Il luogo migliore Ecco È un po' banale Forse come esempio Ma io la vedo invece Come cosa molto concreta La fede è la stessa cosa Se io incontro La bellezza Di un'esperienza di fede All'interno di una comunità cristiana O all'interno di una fede Appunto Come quella cattolica Ho il desiderio Di comunicarla Agli altri Agli amici Alle persone a cui Voglio bene E le persone che incontro Proprio perché È un'esperienza totalizzante La Vergine viene A ricordarci Perché lei Continua a dircelo Da duemila anni E quindi Continuamente Ce lo ricorda Ci sollecita a questo E lo fa Attraverso queste apparizioni Meggiugorie È soltanto Tra virgolette L'ultima In quanto Ambito cronologico Ma dal punto di vista concreto Poi ci sono altre In questo periodo Che hanno un senso L'ultima di questa sequenza Bimillenaria Io ho fatto un conto Un po' a spanne Perché ovviamente Non è facilissimo Riuscire a localizzarle tutte Ma nel corso Di questi duemila anni Di cristianesimo Ho individuato Almeno un migliaio Di apparizioni credibili Di cui La quasi totalità Sono piccole apparizioni locali Con anche cappellette Nella campagna All'incrocio Di un crocicchio Oppure con santuarietti In giro per l'Europa Che dipingono Descrivono Quella che Giovanni Paolo II Chiamava La geografia Della fede Se mettessimo Un puntino nero Su ogni luogo Di una apparizione Di Maria Vedremmo La mappa Dell'Europa Annerirsi Proprio per la quantità Di queste apparizioni Quindi sostanzialmente Le apparizioni mariane Servono a questo A ricordarci La perenne verità Meggiugori In questo Avendo una durata Ormai quasi quarantennale Rappresentano Uno di quei Momenti epocali Proprio perché Sin dal 1981 Fino a oggi Maria scende Ogni giorno Lì a Meggiugori O dove si trovano I veggenti Che hanno le apparizioni Quotidiane Per ricordare La perenne verità Non è che ogni giorno Lascia un messaggio Ogni giorno invece Scende per pregare Per pregare Per i fedeli Per pregare Anche per quelli Che non Hanno ancora Conosciuto l'amore di Dio Cioè per la conversione Di tutto il mondo In questo senso Dopo ormai Quasi quarant'anni La chiesa Bisogna dire Che Ha cominciato a prendere Un po' più sul serio Di quanto fosse Precedentemente Questa vicenda Di Meggiugorie Il motivo molto concreto È legato al fatto Che il vescovo Dell'epoca Monsignor Janic E anche quello successivo Peric Hanno avuto Per tutta una serie Di motivi Che sarebbe lungo Spiegare Ma che si sintetizzano Nelle vicende Della Bosnia-Herzegovina Dell'epoca Cioè Il conflitto Tra i preti secolari E i francescani Che da tempo Dall'Ottocento Praticamente Si perpetua E il vescovo Dell'epoca Pensava La Madonna Viene sulla terra Viene appare a Meggiugorie Per risolvere questo problema La Madonna Di questo problema Francamente Non è che se ne sia disinteressata Che non era il suo compito Era il compito Dei vescovi Dei sacerdoti Dei frati Risolverlo Quindi lei Si è estraniata Da questo discorso E il vescovo Quindi sin dall'epoca Ha cominciato a trovare Delle questioni Più banali Per criticare E c'erano tante Piccole problematiche Che soprattutto Per il fatto che A Meggiugorie È la prima volta In cui ci sono Sei veggenti Che contemporaneamente In luoghi diversi Hanno le apparizioni Che comunque Per 40 anni Vanno avanti E quindi Piccole contraddizioni Questioni Criticabili Ce ne sono state Come purtroppo Nelle cose della vita Avviene sempre E il problema È che se i vescovi Si sono focalizzati Su questo I loro giudizi A Roma Sono stati Sempre negativi E Roma Fino a un certo punto Ha accolto Queste critiche Senza mai bocciare Meggiugorie Ma senza nemmeno Mai prenderla sul serio Nel 2010 Papa Benedetto XVI Decise di creare Una commissione Internazionale Per giudicare Meggiugorie È stata la prima volta Nella storia Dei duemila anni Del cristianesimo Perché Fino a quel momento Il massimo Che si era avuta Oltre a quella Che sarebbe la norma Cioè Le commissioni Diocesane Quale pazienza Non c'era mai stata Una commissione Internazionale Quindi già questo Ha dato il senso Di quella Che è l'importanza Riconosciuto A questa vicenda Di Meggiugorie La commissione Ha lavorato Quattro anni Il suo principale Pregio È stato quello Di appunto Prendere sul serio Le testimonianze Sia dei veggenti Che degli altri Protagonisti Della documentazione Per cercare Di definire Un periodo Che fosse possibile Giudicare Qual è la questione Che il primissimo periodo Che vedeva i veggenti Lì a Meggiugorie Quindi la primissima Proprio parte I primi dieci giorni Sostanzialmente Potevano essere Effettivamente Discussi e giudicati Poi comincia Un periodo In cui Intanto La polizia politica Comincia a perseguitare I veggenti Che devono Devono avere Le apparizioni Dove capita Poi i veggenti Stessi si separano Chi va a Mostar Chi rimane a Meggiugorie Chi come Mirian Va a Sarajevo Poi Ivan Va invece In seminario A Visoco Poi dopo Va a Dubrovnik Quindi si separano E diventa complicato Riuscire a ricostruire Tutte le singole apparizioni In teoria La Chiesa Per giudicare Un'apparizione Dovrebbe Analizzare Ogni singolo evento E approvare Tra virgolette Quel singolo evento A oggi Sono migliaia e migliaia Queste apparizioni Ai singoli veggenti Allora Qual è stato Il merito principale? Quello di definire Un primo periodo Quello chiamato Il nucleo essenziale Il nucleo originario Che la Commissione Ha Presente Schiacciante maggioranza 13 membri su 15 Ha giudicato Veritiere Credibili E il resto Che invece Richiede ulteriori approfondimenti Ma che in realtà A mio parere Da studioso Sono impossibili Da realizzare Perché vorrebbe dire Analizzare Ogni singola apparizione Cosa che risulta Realmente Non Fattibile Quindi questo è stato Il principale merito La principale Difficoltà Invece è stata Quella di Riscontrare Le questioni storiche In maniera più oggettiva Più chiara Perché All'interno della Commissione Non c'era un vero e proprio esperto Della storia di Meggiugorie Io da studioso Questo l'ho segnalato anche In alcune occasioni E l'ho riscontrato Nei miei studi E nei miei approfondimenti Anche commentando Nel libro che ho fatto Per la San Paolo Appunto Dossia Meggiugorie Questa relazione Quindi Lì ci sono un po' di problemi Proprio perché la Commissione Spesso utilizza Dei termini Che per loro Sono chiarissimi Ma che quando Vengono posti all'esterno Diventano invece problematici Risulta difficile All'esterno Spiegare Tutto quello Che è avvenuto Perché Per esempio La Commissione parla Delle prime sette apparizioni Dal 24 giugno Al 3 luglio In realtà Dal 24 giugno Al 3 luglio Sono dieci i giorni E loro hanno avuto Un'apparizione Ogni giorno Quindi Non si capisce Quali siano le prime sette Se si definisce Soltanto in termini italiani Dal mio Approfondimento Ho riscontrato Che le prime sette Loro le considerano Quelle dal 25 giugno Al 1 luglio Quindi Quella del 24 Che vede Due veggenti diversi Da quelli dei giorni successivi Con una modalità Semplicemente Di visione E non di dialogo Di contatto Viene considerata Un'apparizione Previa Come una specie Di premessa E quindi Viene tralasciata Non perché Venga considerata Falsa Ma perché Non viene considerata Semplicemente Utile A riconoscere L'intero percorso E allo stesso modo Si arriva fino al 1 luglio Cioè quando Il parroco dell'epoca Padre Iozzo Fa rifugiare I veggenti Che venivano inseguiti Dalla polizia In chiesa E per la prima volta I ragazzi Hanno l'apparizione In chiesa Quindi è Maria Che dalla collina Di Meggiugorie Va in chiesa Da suo figlio Gesù Da quel momento Comincia questo Contatto Concreto Delle apparizioni A suo figlio Gesù Cioè come una comunità Di persone Ognuna con la sua Individualità Che come un mazzo di fiori È fatto di tanti fiori Che hanno una individualità Ma che poi sono ancora più belli Perché in un mazzo di fiori I fiori sono Della stessa grandezza Di colori omogene Di un profumo Che non si sovrasta Che vengono portati A Gesù Appunto come Il dono di Maria Che viene Come faceva Duemila anni fa Sulla terra Ancora oggi A convertirci Ti vorrei fare Intanto una domanda Sul rapporto Dei papi Degli ultimi Tre papi Papa Giovanni Paolo II Benedetto XVI E Papa Francesco Su Meggiugorie Su quelle che sono Diciamo Le notizie più attendibili Rispetto a quelle che sono Le voci Che si Che si rincorrono Su veri o presunti Apprezzamenti O disprezzamenti E su quelli che sono poi stati Invece gli atti concreti Appunto di questi papi Se ce li puoi riassumere Sì Innanzitutto dobbiamo dire Che Meggiugorie È cominciata nel 1981 Quando c'era Giovanni Paolo II Il quale Per la certezza Che abbiamo potuto avere Dopo la sua morte Quando sono uscite Determinate carte Lettere Cartoline Che lui aveva scambiato Con in particolare Due coniugi Coniugi Suornichi Polacchi Amici suoi Che erano devoti Di Meggiugorie Abbiamo la certezza Che lui Credesse in Meggiugorie La considerasse Un luogo Molto importante Nella storia E addirittura E addirittura Una delle veggenti Mirjana Un giorno Disse Se non fossi papa Sarei già A Meggiugorie A confessare Lui non ha mai Lui non ha mai preso Però una posizione Netta e decisa Perché ha ritenuto Importante Che il papa Non entrasse In queste questioni Che non sono mai Dogmi di fede Probabilmente i nostri Ascoltatori lo sanno Ma nei dogmi di fede Le apparizioni Non rientrano Anche le apparizioni Riconosciute Come Lourdes Come Fatima Non sono Obbligo di fede È chiaro che sarebbe Un po' un peccato Di superbia Dire io non credo A Lourdes Non credo A Fatima Ma in teoria Uno potrebbe tranquillamente Non considerarle Utili per la propria vita Di fede Quindi ancor più Un'apparizione Non riconosciuta Come Meggiugorie Giovanni Paolo II L'ha vissuta A livello personale Come una cosa credibile A livello pubblico Come qualcosa Che doveva essere giudicata Dal vescovo di Mosta Dalla congregazione Per la dottrina della fede Quindi Oltre a dare Alcune sue indicazioni Spicce Tipo i vescovi Che gli chiedevano Posso andare O non posso andare A tutti diceva Andate pure Ma al di là di quello Non ha fatto Ulteriori prese di posizione Benedetto XVI Per quello che ne sappiamo Come prefetto Della dottrina della fede Quando era il cardinale Ratzinger Non aveva Un particolare afflato Sia nei confronti Dell'apparizione in generale Sia specificamente Per Meggiugorie Ma io devo pensare Che quando è diventato Pontefice Abbia avuto Quella che si chiama La grazia di stato Cioè quella particolare Grazia che corrisponde Allo stato In cui uno è E quindi da papa Probabilmente ha avuto Delle illuminazioni Maggiori e migliori E ha deciso quindi Di creare quella commissione Che poi ha fatto Lo studio più ampio Di cui prima abbiamo parlato Questa è stata Una scelta molto Molto coraggiosa Non era mai avvenuto Nella storia della chiesa Appunto come dicevo Che ci fosse Una commissione internazionale E lui invece Ha deciso Di costituirla Facendo anche un gesto Molto coraggioso Perché sostanzialmente Ha creato Un qualcosa Che non era mai Esistito prima Papa Francesco Che si è trovato A subentrare A partire dal 2013 Ha ricevuto Dalla commissione A gennaio del 2014 I risultati Che la commissione Appunto aveva Fatto Aveva sintetizzato Nella sua relazione In tutta la grande mole Di documentazione Che ha raccolto E probabilmente Per la sua Modalità Di affronto Delle apparizioni In qualche occasione Ha un po' È stato un po' Esuberante Nel definire La Madonna Cosa che appunto Ha creato Tante anche Polemiche Postina Capo dell'ufficio Telegrafico Non credo Di una Madonna Che appare ogni giorno E così via Io ho l'impressione Che appunto Avesse informazioni Alle volte Un po' Erronee Lo ha riconosciuto Lui stesso Parlando con Chiara Mirante Nel suo incontro Appunto due anni fa Che Chiara Ha potuto Esplicitare in pubblico E quindi Abbiamo tutti Potuto ascoltare Su Youtube Dalle sue dichiarazioni In cui il Papa L'ha autorizzata A dire Che aveva avuto Delle informazioni Erronee Che quindi Le sue esternazioni Erano state Appunto Motivate Da queste informazioni Che poi Si è reso conto Fossero Non particolarmente Significative E esatte Io Scherzando Ma non troppo Dico sempre Se il problema è Che la Madonna Come ha detto il Papa All'epoca Dicendo poi Che si era In qualche modo Sbagliato Se la Madonna Che appare A Medjugorje È postina Perché appare A un orario preciso Quindi con un appuntamento Preciso Allora A Fatima Dove gli appuntamenti Furono quattro Perché All'uscita che disse Cosa dobbiamo fare La Vergine Rispose Tornate qui Appuntamento Di luogo In questo stesso giorno Il 13 Appuntamento Di data Allo stesso orario Che è l'unica cosa Che coincide con Medjugorje Per i prossimi mesi Quindi diede Quattro appuntamenti Rispetto a quello di Medjugorje Che è soltanto Quello dell'orario Una sola Contro quattro Se a Medjugorje La Madonna È postina A Fatima Che cosa dovrebbe essere Il capo degli uffici Postelegrifonici Di tutto il mondo Il responsabile Dei ministeri Delle poste Telecomunicazioni Dell'Orbe Ecco Scherzo ma non troppo È evidente Quando si vanno a fare I paralleli I paragoni Tra le singole situazioni Ci si rende conto Che qualche esagerazione Talvolta La si è fatta Francesco Lo ha riconosciuto Ha in questo momento Riconosciuto La possibilità Di fare i pellegrinaggi Ufficiali a Medjugorje Ha inviato Lì a Medjugorje Un suo responsabile Il vescovo Oser Appunto per guidare La pastorale Che viene fatta lì È evidente Che fino a questo punto Tutto quello Che poteva essere fatto Per Medjugorje Tranne l'approvazione Ufficiale Delle manifestazioni Delle apparizioni È stato fatto Ora Ovviamente L'ulteriore passo Sarebbe quello Ma questo dipende Dalla volontà Del Papa attuale O di un Papa futuro E dalla volontà Della Chiesa In quanto tale Forse in questo momento Non c'è nemmeno Proprio la necessità totale Perché una volta Che sono stati approvati I pellegrinaggi ufficiali Cioè quelli guidati Da vescovi O da sacerdoti In quanto tali E non solo come accompagnatori Può essere un passaggio Attualmente significativo Proprio per vedere Anche come le persone Vivono questa esperienza Di fede Come continuano A essere devoti Al titolo Della Madonna Di Meggiugorje Che è regina Della pace Come continuano A vivere Questa esperienza Di fede Anche in tempi Come quelli attuali In cui sappiamo Che dal 2 marzo 2020 Si sono concluse Le apparizioni mensili Alla veggente Miriana E quindi Attualmente Diciamo che L'unico messaggio Che arriva da Meggiugorje È quello del 25 del mese Attraverso la veggente Maria Per la gente Che era abituata Ad andare lì a Meggiugorje Soprattutto attorno Al 2 del mese È una sfida vera e propria A passare Da quella Che è Semplicemente Una manifestazione Che si va A vivere lì Perché attorno Attorno alla croce blu Dove avvenivano Le apparizioni di Miriana Si radunava Un intero popolo In quei giorni Ha invece Una Io la chiamo proprio Uno spalmare I pellegrinaggi In tutti i giorni del mese Come era nei primi tempi Quindi non andare più lì Soltanto Nei tempi Storicamente Più significativi Come quelli del 2 del mese Ma andare lì In tutti i giorni dell'anno Perché tutti i giorni dell'anno Maria Regina della pace È presente a Meggiugorje E propone Il suo appello Il suo invito Alla conversione Alla pace Alla riconciliazione Ascolto Un'ultima domanda Intanto Volevo sottolineare il fatto Che comunque Papa Francesca Anche lui ha dimostrato Un grande coraggio Mandando un delegato pontificio Perché è distretto Perché È un rappresentante del Papa Delegato apposta per Meggiugorje Quindi anche questo è un grande segno Detto questo Ti volevo chiedere Secondo te Visto che siamo anche in tempi di quarantena Quali aspetti Di Meggiugorje Possono esserci utili Per vivere questo momento Storico preciso E anche questo periodo Lontano da Gesù sacramentato Beh diciamo che Nei messaggi di Meggiugorje Soprattutto In questo periodo Sto studiando quelli Appunto Alla veggente Miriana Che Essendosi conclusi Il 2 marzo Hanno Una specie di Ormai corpus Dei messaggi Costituito Emerge Molto spesso L'invito A non avere paura Dei segni dei tempi A non avere timore Di Guardare Di studiare Di conoscere I segni dei tempi Per venirne Ammaestrati Appunto Sul cammino Verso la luce Proprio Dieci anni fa Intorno al 2010 C'erano diversi messaggi Che dicevano In tempi difficili In tempi faticosi In tempi bui Cercate la vera luce Quando siete messi alla prova Quando state vivendo Periodi di crisi Non abbiate timore Non focalizzatevi Soltanto sulla paura Del momento Ma guardate all'orizzonte Della vita eterna Io vengo a suggerirvi Di guardare a Cristo Come orizzonte ultimo Della vostra vita Questo per esempio È un qualcosa Che in questi tempi Di quarantena Io sento molto Forte Per la nostra vita Perché in questi tempi In cui ci Ci confrontiamo Con un nemico Ignoto Perché il virus È invisibile Quindi potrebbe essere Dovunque Non abbiamo Un nemico Riconoscibile Abbiamo un qualcosa Che alleggia nell'aria Che ci fa Ovviamente Temere Per la nostra salute Per la nostra vita La Madonna Quello che viene a dirci È Anche questa è una prova Della natura Non è che È Dio che manda un castigo Perché vuole Terrorizzarci Ma è Nel corso Della vita normale Nel corso Nel corso normale Delle cose Questa presenza Del male Del dolore Della fatica Fa parte appunto Di quella che è La nostra natura umana Allora affrontarla Nella chiave giusta Cioè qualcosa che A livello medico Scientifico A livello di vita Dobbiamo affrontare E vincere Ci permette però Di capire come La nostra vita Non può esaurirsi Soltanto in questo Non possiamo Semplicemente stare Ad aspettare Se veniamo contagiati O meno Dobbiamo invece Comprendere Che la totalità Della nostra vita Deve essere Nell'orizzonte Dell'eternità Grazie Per il tempo Che ci hai dedicato E che Maria ci assista Certamente Quella è la certezza Che abbiamo Maria ci assista E continua Ogni giorno Non solo a Medjugorje Ma anche A tante altre anime mistiche A apparire Anime mistiche Sconosciute Che vivono Nel nascondimento Nella sofferenza Nella fatica Per noi Proprio per la nostra Vita Per sostenere Tutte le nostre fatiche Quindi Maria Non viene Semplicemente Per farsi una passeggiata Dal cielo Tanto per prendere Un po' d'aria Perché lei può uscire Di casa E noi no Lei viene Soltanto per invitarci A comprendere Il senso Di questa chiamata All'eternità Di questa chiamata Alla conversione A Cristo A Dio Trinità Questo è il compito Di Maria A noi Spetta semplicemente Accettare Questo aiutino Che lei viene a darci Accogliere Il suo appello E cercare Di Tenerci per mano Alla sua mano Amorevole E continuare Il nostro cammino Di fede Grazie Grazie a te Emiliano E a tutti gli ascoltatori Un caro saluto Grazie Grazie a te Emiliano